ecco allora bentornati canale dalle oggi siamo qui per la recensione di borderlands il nuovo film di erai rotto la trama quale è lilith una famigiarata fuori legge del passato misterioso torna nel suo pianeta natale pandora per trovare la figlia scomparsa dell'uomo più potente dell'universo ovvero atlas lilith forma un'alleanza con un improbabile team composto da roland tiny tina il suo muscoloso protettore tannis krieg una scienziata squilibrata e robot club trap questi improbabili eroi dovranno affrontare diversi insidi e proteggere la ragazza scomparsa che potrebbe detenere la chiave di un potere inimmaginabile allora salve con calma con molta calma con molta calma io venerdì sono andato a vedere il film venerdì 9 agosto il giorno dopo che due giorni dopo che uscita cinema con aspettative molto basse sono sincero uno perché non ho mai giocato ai videogiochi sappiamo ovviamente questo film è tratto dall'omonima serie di videogiochi nata nel 2010 bon mai giocato manco a uno manco mezzo secondo avevo già detto nei video con dei film consigliati nel mese che trovate qua in alto la trama non mi sembrava particolarmente originale ma non avendo mai giocato gioco magari la cosa era attinente ma soprattutto ho sentito sentivo che questo film era stato asfaltato cioè massacrato è ridotto è quasi riduttivo dilaniato cercato un termine più brutto di questo dalla critica non dal pubblico dalla critica anche dal pubblico ma soprattutto dalla critica detto vabbè cioè io partivo in sala già male molto male sono andato a vedere il film e a dirla tutta devo essere sincero mi sono trovato completamente d'accordo con la critica questo metto già le mani avanti ad oggi è il peggior film visto nel 2024 lo so che questa fase l'avete già sentita perché l'ho già detta in night swim l'avevo già detta in madame web l'avevo già detta in la profezia del male e la ridico adesso e infatti se vi andate a vedere le versioni di quei film erano 4 e mezzo 4 4 meno 3 e mezzo c'è sempre indietro perché effettivamente vedo sempre di peggio adesso se io quest'anno trovo un film peggio di questo vi giuro vi faccio un video faccio in sala perché trovare un film peggio di questo è veramente veramente difficile e attenzione non perché non ho colto le citazioni allora se non cogli le citazioni non conosci il videogioco non è che le citazioni ti salvano il film non è che a c'era quella citazione allora la similizzatura è perfetta c'è quella citazione lì e allora i buchi di trama non ci sono ci sono comunque ci sono comunque non è che se perché c'è la citazione allora questo film non è identico ad altri prodotti che ho già visto attenzione io sicuramente tante citazioni non le ho colte anche se ai videogiochi ci ho giocato film trasposti da videogiochi li ho già visti quindi riesco anche a capire qual è il momento citazione quale non è il momento citazione tipo all'inizio che mi fanno vedere una serie di armi io non avendo giocato a videogioco so che quelle armi lì sicuramente fan parte del videogioco non ci vuole un genio cioè allora uno dei problemi più grandi di questo film qua questo è un film per tutti non è vm niente il protagonista è la eroth sostanzialmente è un po come dire rob zombie farà il regista di super mario bros 2 il film cioè è la eroth che fa un film e lo rende per bambini quando il videogioco è almeno vm 15 perché io ho visto che i videogiochi ne hanno fatti diversi con diversi dlc alcuni sono vm 15 altri sono vm 17 altri addirittura vm 18 cioè il videogioco è un videogioco abbastanza violento e me lo rendi per bambini quando regista è un regista che poteva elevarti alla potenza e la violenza e io già qua rimango molto 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 basito aperti che cazzo hai scelto era eroth prendi un altro regista questo è un problema dei 94 che vi elencherò anche perché tu dice un film per bambini allora su qualcosa chiudiamo l'occhio va bene su qualcosa chiudiamo l'occhio perché comunque fai per bambini quindi alcune cose sono per bambini va benissimo problema è che il film non riesce in niente non c'è una cosa un pezzo di terra un sassolino una cosa in questo film che funzioni non ce n'è una non ce n'è una partendo dalla scarsità dell'approfondimento della caratterizzazione e delle interazioni dei protagonisti eccoli qua protagonisti principali formati da un cast invidiabilissimo tra cui tra cui abbiamo due premi oscar kate blanchett e jamie licordi volendo mettere anche la ciliegina sulla torta avevi anche una pluripremiata premi oscar perché kate blanchett di premi oscar non ha vinti due e jamie licordi ci ha vinto uno due anni fa quindi avevi due premi oscar avevi kevin hart avevi jack black che dava la voce avevi ariana greenblatt avevi edgar armiret avevi un buon cast e i personaggi sono approfonditi male caratterizzati peggio e le interazioni non esistono le interazioni anche perché abbiamo dei dialoghi veramente brutti brutti da sentire non per il non per il doppiaggio attenzione brutti da sentire per quello che dicono improbabili che non portano io c'è una scena dove parlano e non dicono niente è una roba che non ho mai visto la scena è a metà non vi dico è a metà voi se voi ascoltate il dialogo finisce la scena ragazzi non avete detto niente non avete detto non avete concluso il concetto non avete concluso niente capisco che è un film per i bambini ma non puoi fare una scena che quella scena due minuti e mezzo è nel deserto non dicono niente vogliamo parlare di sprechi la sceneggiatura è completamente sprecata ma perché ripeto io non ci ho giocato ma trasposizione dei film a video gioco e trasposizione di videogiochi a film ne ho visti quindi io so che videogiochi hai fatto e so quanti ne hai fatti quindi materiale da cui attingere ne avevi non è che hai fatto un videogioco che dura niente avevi tre videogiochi con un sacco di dlc dei video giochi avevi tanto materiale da cui attingere per fare una trama interessante invece la trama è inesistente questo film è un film che hai già visto non porta niente di nuovo nella sceneggiatura perché è una trama vista e rivista e rivista addirittura questo film copia molto spesso tra l'altro in modo molto evidente da tanti altri film come io ho notato tante scopiazzature non omaggi tante scopiazzature a Mad Max tante scopiazzature a Star Wars tante scopiazzature soprattutto a Guardiani delle Galassia tantissime scopiazzature tipo il rapporto tra Tannis e Tiny Tina il muscoloso e la ragazzina è Rocket e Groot uguale quell'altro che dice due parole in carroce e quell'altra abbastanza pazzarella uguale già visto Rocket e Groot cioè questo film ha un sacco di robe a cui attingere materiale da cui attingere per fare una trama interessante e la trama è molto scontata molto banale molto già vista e in più copia d'altro ma sei stupido? o che cosa? question mark? ma anche perché il film non aggiunge nessun plot twist nessun oh mio dio cosa sta succedendo nessun capovolgimento di fronte nessuna cosa pazzesca durante il film ti dici oh mio dio cosa sta succedendo tipo non so per esempio non è un plot twist quando in Deadpool e Wolverine Hugh Jackman si mette Wolverine si mette la maschera però una cosa che fa urlare la sala non c'è niente in questo film che faccia oh mio dio urlare la sala che ti faccia impazzire e soprattutto arriva ad un finale il film e il finale è qualcosa di scandaloso perché ovviamente io come dico molto spesso il film è un compito i primi due atti è lo studio della materia e il terzo atto è la verifica perché tutto quello che mi hai studiato che ho visto nei primi due atti me lo devi mettere bene giù nella terzo atto e questo film il terzo atto è una cosa scandalosa ti mettono un plot twist che ha non è tangibile ve lo dico Tiny Teen e Lilith quelle due robe lì dici ma che cazzo è sta roba cioè zero proprio lo scontro finale è agghiacciante è brutto da far schifo anche perché a conclusione del combattimento finale il villain Atlas è intangibile non inutile non orribile è intangibile cioè per me il villain in questo film qua non esiste è scritto talmente male è caratterizzato talmente peggio che non esiste praticamente non non fa niente è una roba che è è quasi incommentabile il villain di questo film qua lo vedi tre volte concretamente di base lo vedi una volta per chi ha visto il film lo vedi in carne d'ossa una volta è qualcosa che non 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 riesco a spiegare non riesco a spiegare perché il budget ce l'avevi questo film è costato 120 milioni di dollari ne incasserà forse forse un quarto forse ne incasserà un quarto ma forse il regista è la regista molto molto affermato il cast è un cast della madonna cioè è incommentabile questo film ragazzi io voglio vedere nei commenti cosa mi direte ma se uno mi dice questo film a me è piaciuto vabbè questo attenzione questo è uno di quei film lì oggettivamente brutti ti è piaciuto va bene non ti è piaciuto va bene però è scritto male caratterizzato peggio effetti speciali discutibili la sceneggiatura non esiste i personaggi sono scaviti col culo il villain ha lo spessore di questo foglio qua anche meno cioè raga è oggettivamente è brutto questo film qua ma è oggettivamente tanto brutto anzi vi dirò io trasposizioni cinematografiche di un videogioco ne ho viste veramente tante e questo se non è primo è secondo ma anzi io questo a memoria lo metto al primo posto tra le peggiori trasposizioni cinematografiche da un videogioco e adesso passiamo alla parte con spoiler 3 2 1 cioè io sinceramente nella parte con spoiler non so neanche cosa dire nel senso vi posso dire che c'è una scena che mi è piaciuta ovvero la scena nei sotterrani d'azione tra i protagonisti e i bloodshot quella scena lì quella delle casse mi è piaciuta in qualsiasi film non in questo in qualsiasi film serve una bella scena d'azione quindi bene quella scena lì tutti i personaggi fanno qualcosa ok e allora un'altra cosa che vedo avendo giocato a tanti videogiocchi e avendo visto tante trasposizioni è che si vede che questo film è spesso sviluppato come se fosse un videogioco perché c'è tipo quando vanno nei sotterrani che devi capire come fare a evitare l'acido per terra e quindi prendi un pezzo lo metti di traverso fai passare tutte le persone ma devi stare attento ai buchi quell'altro che va dentro il tunnel per cercare di uscire d'altra parte e attivare l'elettricità e far tornare l'elettricità che così si aprono le porte è come un videogioco tutto a livelli c'è il livello quello del mostrarone il barucoli il verme gigante il piscio lì che salti tante cose come un videogioco e questo lo apprezzo cioè di base questo è una delle poche cose che non a cui questo film si attacca per non farmi dare zero come voto perché sennò sarebbe stato ve lo dico sempre stato quello il voto e il voto non è per niente più alto di zero ve lo dico già poi allora a livello di ambientazione ci sta certo vedi sassi e deserti per il 75% del film cioè le ambientazioni sono fatte bene hanno ricavato bene il mondo perché comunque anche se non hanno giocato il videogioco google immagini esiste quindi ho visto che comunque sono riusciti bene a fare le trasposizioni la a ricavare le ambientazioni eh poi eh il fatto che il plot twist che Lilith in realtà è lei la eh terza chiave è lei la figlia di Eridia che può aprire è la terza chiave per aprire il va bene caratterizzato col culo va bene lo stesso cioè è il classico beh ovvio che è un plot twist per chi non ha giocato al videogioco è ovvio che è un plot twist non me l'hai mai caratterizzato bene però d'altro canto ti dico beh grazie che lei la la chiave è lei la protagonista ragazzi voi mi dite con la centra tutto perché tu me l'hai presentata che è lei la protagonista e in un film protagonista vuol dire personaggio su cui ruota tutta la storia principale la storia principale è la terza chiave la il personaggio terza chiave e non può essere tiny teen della minchia quindi è ovvio che lei la terza la terza chiave infatti io non ho il problema è che io non ho mai pensato un secondo che tiny teen non avendo mai giocato ai videogiochi che tiny teen fosse la chiave ma mai neanche per un secondo ci ho pensato e quindi vabbè poi non so nei videogiochi se tiny teen è la chiave o se effettivamente lì non lo so nel film vi sto parlando del film del film non ho mai pensato per un secondo che tiny teen fosse la chiave benissimo poi e chiudo il fatto che c'è lo screzio tra tiny teen e lilith sul finale quando lei dopo gli butta la bomba e dopo tiny teen insieme agli altri scappano cioè scappano lasciano lì ah ah cioè loro tiny teen come in tutti i film stavolta si sente solo l'ultima parte del discorso come sempre si incazza solo per l'ultima parte del discorso e gli butta la bomba scena dopo lilith torna a salvare tiny teen e tutto a posto è tornato tutti amici come prima cioè lo screzio e la divisione dei personaggi è durata quanto? due minuti allunghiamola due minuti? giusto per allungarla tanto cioè è classico come in tutti i film dove c'è un gruppo dividiamo il gruppo ma l'hai fatto giusto così per farlo perché dopo due minuti dopo me l'hai fatto tornare insieme cioè io alla fine del film avevo già un po' per centime io alla fine del film ero così ero come tamatonga cioè ero proprio fuori di me io non ho altro da dire il mio voto è tre più il più lo do per comunque il discorso dei videogiochi che me l'hai reso un film come dei videogiochi ma nonostante tutto io considero questo film qua la peggiore trasposizione cinematografica da un videogioco è un film dove non funziona niente soprattutto una cosa che non ho detto è un film che dura un'ora e 42 questo l'ho già detto ma è un film che che dura un'ora e 42 con tanti personaggi e ovviamente come detto prima personaggi caratterizzati male perché un'ora e 42 fai fatica a caratterizzarmeli bene i personaggi infatti i personaggi sono caratterizzati male a profonditi peggio non c'è un'interazione c'è un'interazione molto scarsa tra di loro è un film dove non funziona niente e avevi due premiosca anzi avevi tre premiosca perché Kate Blanchard a 22 Jamie Lee Curtis a 21 avevi un gran cast avevi un gran regista avevi un buon budget e questo film per me per ora è il peggior film che ho visto quest'anno punto scrivete nei commenti cosa ne pensate di questo film se vi è piaciuto se non vi è piaciuto cosa ne pensate di questo di Borderlands cioè ovvio attenzione scordatevi un capitolo 2 scordate nella maniera più assoluta che faranno un capitolo 2 dopo questo totale disastro scrivetemi nei commenti cosa ne pensate del mondo Borderlands se ci avete giocato se non ci avete giocato ovviamente scrivetemi nei commenti i riferimenti che voi avete colto che io non avevo colto pagina facebook per averlo instagram iscrivetevi al canale mettete un mi piace attivate la campanella notifiche ci vediamo una prossima tata con il Dali che entrava a far parte dei Bloodshot a tardo da uno diritto a tardo a tardo a tardo a tardo a tardo